Franco Capasso che chiamiamo qui sul parco con noi e con noi anche Gianni Testa, l'altra tv di Teleuniverso che viene dal Lazio, lui che ha fatto chilometri e chilometri dove sta Gianni? Stava qui, eccolo qua, vieni qua, una parola a volo a volo volevo ringraziare un attimo solo, perché se siamo qua non riprendiamo abbiamo prima un altro momento di Daphne Moda e poi le pellicce per concludere allora, volevo ringraziare Angelo perché stare presso a Angelo non è facile quindi hai fatto chilometri, gli ho fatti migliaia e migliaia di chilometri per stare qui comunque essere qui, vedere per prima cosa che Angelo è al 90% ma quando sarà al 100% non riusciremo neanche a raggiungerlo ok, un applauso e glielo facciamo di buone grazie, gentilissimi perché qui è solo l'aperitivo io vi ringrazio, vi ricordo sempre che sono Franco Capasso eccoci qua, di Italia Felix e naturalmente vi invito sempre anche ai miei eventi perché c'è sempre anche Angelo quindi andate a trovare Angelo e a me non mi trovate grazie Gianni Testa lui uno storico della televisione sono 50 anni che faccio questo lavoro quindi non diciamo l'età niente, io siamo 4-5 anni amici no? quindi sto portando Napoli che veramente è una città meravidosa invidiata da tutto il mondo nel Lazio, in Giociaria ma non solo in Calabria, a Milano, Torino, Romagna e eccetera quindi fra poco entriamo sul Lazio così possiate vedere questo programma detto questo io ho fatto un sacco di chilometri lo sai stamattina c'era dei problemi seri come sai purtroppo ho lasciato degli impegni a casa per venirti a trovare perché Angelo è veramente un artista fa dei vendi un po' forse uno dei milioni d'Italia va bene? facciamo un applauso stasera oggi non vado bene nemmeno a parlare perché è partito dormito stanotte non ho dormito quindi tu sai i problemi miei va bene? allora vogliamo fare un grosso applauso a Gianni Testa direttamente da Lazio grazie mille che viene con passione con la telecamera per donare anche lui un'emozione grazie grazie mille a questo punto Daphne Moda signori il momento importante e continua con la moda